Che vuoi? Uomini e donne, Gemma e Giorgio sono tornati insieme? La svolta clamorosa Wind Zuiden Uomini e donne Gossip News su Gemma e Giorgio, è ancora amore tra i due senior? Cancelletto Gemma e Giorgio di Cancelletto Uomini e donne ritornano insieme a partire dalle puntate del dating show, video, che vedremo in onda per tutto il mese di gennaio in tv? E questa la domanda che in parte si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori della trasmissione di Canale 5, curiosi di scoprire se ci sarà il fatidico ritorno di fiamma tra i due cavalieri del trono over. Ultimissime Uomini e donne, Gemma e Giorgio ancora innamorati?. Le ultimissime di Gossip su Uomini e donne rivelano che nel corso dellultima registrazione del trono over avvenuta qualche giorno fa, abbiamo visto che la Galgani ha deciso di sorprendere ancora una volta il suo ex fidanzato storico e lo ha fatto tappezzando il camerino del cavaliere con un bel po di oggetti che ha acquistato per lui durante il suo viaggio natalizio in Egitto, dove Gemma ha avuto modo di visitare le mummie. Una sorpresa che ancora una volta ha lasciato Giorgio Manetti senza parole e a tratti l'ha anche imbarazzato. Il cavalieri toscano, però, anche in questa nuova registrazione non ha cambiato idea e ha ribadito il suo concetto. Ormai Giorgio prova soltanto affetto nei confronti di Gemma e non se la sente di riprendere in mano la loro storia d'amore, così come avrebbe sperato la dama torinese che fino alla fine ha sperato in un suo cambio idea. E invece Giorgio non si è spostato dalle sue idee e anche in questa nuova registrazione, l'ultima del 2017, ha dato un dispiacere a Gemma, la quale però ha affermato che la sorpresa organizzata per lui non aveva alcun doppio fine se non quello di stupirlo ancora un po' e fargli capire che prova davvero un sentimento nei suoi confronti. Gemma esce con un gigolo pagato da Tina. Ma la svolta clamorosa di questa nuova registrazione di Uomini e Donne overcastato nel momento in cui per Gemma è arrivata in studio la sorpresa che Tina Cipollari ha fatto per lei come regalo di Natale 2017. Sì, perché la Cipollari ha deciso di regalare alla dama torinese un gigolo, che avrebbe soddisfatto le sue richieste sessuali nel corso di queste giornate di festa. Un regalo decisamente inaspettato per Gemma, che ovviamente ha ammesso di non aver bisogno e di non voler assolutamente un gigolo, video virgola per riprendersi dopo la coccente delusione d'amore che le è stata inflitta da parte di Giorgio. Al tempo stesso, però, Gemma ha ammesso che l'invito a cena del gigolo non lo avrebbe rifiutato e quindi alla fine ha deciso di uscire anche se solo per la cena con il gigolo offerto da Tina. Grazie a tutti!